Il Comune di Cremona ha comunicato che negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia a gestione comunale non vi sono stati casi di autocertificazione riguardante l'obbligo di vaccinazione prodotti per l'anno scolastico 2018-2019 per cui doveva essere presentata la relativa documentazione entro il 10 marzo. La documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione o l'esonero o il riferimento della stessa o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sociosanitaria territoriale di riferimento è stata acquisita prima dell'avvio dell'anno scolastico. In ottemperanza le disposizioni relative all'obbligo vaccinale per l'anno scolastico 2019-2020 sono stati forniti gli elenchi degli iscritti per la verifica della situazione vaccinale che costituirà requisito d'accesso o di prosecuzione della frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia a gestione comunale. Un Comune assolutamente virtuoso il nostro dunque in apparenza che si basa però sull'autocertificazione e quindi che crede a prioristicamente all'onestà intellettuale di tutti. Grazie.